ti avviso subito che questo non è il solito video su temo che hai visto in rete fino ad ora anche se potrebbe sembrare dove tutti sono gioiosi di spacchettare il loro gadget tech mancando a mio avviso di obiettività il video su questo ormai famosissimo store cinese che mette a disposizione molti prodotti tech a basso costo e che regala coupon come se non ci fosse un domani l'avrei dovuto girare e pubblicare in questo modo che bello lo pacco temo finalmente è arrivato il mio ordine temo muoio dalla voglia di aprirlo voglio specificare che i prodotti che sono qui dentro comprati con i miei spiccioli non mi sono stati inviati mi reputo una persona onesta ma su youtube e su altre piattaforme social purtroppo non è sempre così recentemente sono stato anche accusato di essere paladino dalla giustizia da qualcuno io sono semplicemente una persona che come tutti noi non vuole essere presa per il culo che mette sempre in chiaro le cose spiego tutto dopo la sigla prendete pop corn perché ci divertiamo ciao a tutti bentornati o benvenuti sul canale io sono alfredo pilota di droni e appassionato di tecnologie a 360 gradi vi anticipo subito che dopo questo video che state vedendo non collaborerò sicuramente in futuro con temo e questo è sicuro tutto quello che dirò è la verità è documentata quindi in caso di avvisi tramite mail cartacei quello che vi pare pecc di avvocati che mi vogliono denunciare questa volta non ho nessun problema mi sono salvato tutti i screenshot le mail o i dati alla mano e quindi non sto dicendo niente di falso anzi io non ho mai detto niente di falso però almeno mi sono tutelato questa volta prima di iniziare come al solito vi chiedo ora più che mai di supportarmi in maniera del tutto gratuita lasciando un bel like al video e nel caso in cui dovessi finire in galera per qualche motivo di aiutare le mie tre figlie a crescere sto scherzando ovviamente vi chiedo anche di guardarlo tutto minuto dopo minuto secondo dopo secondo per dimostrare che sui social è possibile diffondere le proprie passioni guadagnarci anche qualcosa e anche lavorare volendo però facendo del marketing etico come piace definire a me io ragazzi vi dico apertamente che ricevo prodotti dai 30 fino ai 2000 euro ma non mi faccio pagare mai per un semplice motivo perché perderei di obiettività è normale è come se fossero i miei datori di lavoro quindi non andrebbe bene e poi perché sono più libero in base di creazione del video e posso essere onesto a 100 per cento questo secondo punto sarà il fulco del video di oggi poi il mio pensiero personale ricevendo un prodotto e che costa anche abbastanza inutile farsi anche pagare perché visto che tanto poi puoi rivendertelo dopo che lei testato un mese due quello che è fatto la recensione se non lo usi veramente perché a te magari non serve o magari ne arrivano doppioni ne arrivano altri te lo rivendi e guadagni qualcosetta che serve o vende tanto non è che ci fai i mega miliardi serve per portare avanti tutto questo le luci il canale compri un'attrezzatura migliorativa compri qualcosa in più ti vai a mangiare una pizza quando il canale è piccolo tra virgolette come il mio spero di non dirvi niente di nuovo di non scandalizzarvi ma funziona così non so se sapevate come funziona ma funziona così ragionamento veloce il mio canale è piccolo figuriamoci un canale che ha 50.000 iscritti 60.000 anche del settore droni come il mio quanto profitto gena dalle vendite dei prodotti non è questo il video dove vi spiego come guadagnare come si lavora come content creator su youtube ma se me lo chiedete qui sotto non ho problemi magari a crearvi un video ad hoc dove vi spiego tutto per filo e per segno chiudiamo parentesi torniamo al focus del video ovvero temo che cosa è successo il 18 dicembre un'email inviata dal team marketing tem dice questo ciao freddy tech sono chiamiamola alice l'ho censurata del team marketing di temo mi piacciono molto i tuoi video su youtube vorrei che collaborassi con noi la collaborazione è a pagamento e vi forniremo gratuitamente i prodotti necessari per girare il video poi siccome giustamente arrivano una marea di email che non si sa se sono vere quindi dico può essere che un brand tipo temo contatta me che sono l'ultimo arrivato detto ok mi fa piacere che apprezzano il mio lavoro ma verifichiamo prima se è vero quindi ci ho scambiato un paio di mail ed era veramente temo e poi il pacco sta qui quindi questo conferma che era veramente temo perché arrivano come ben sapete 3 miliardi di mail di spam dove ti dicono che sony ti devi inviare questo che un lontano parente è morto e ti arrivano 3 milioni di euro e gli devi dare i dati del conto corrente sappiamo come funzionano i dati sensibili come per esempio anche un canale youtube poi mi dicono vabbè temo è questo qui se non lo conosci questa è la nostra piattaforma vai a te a vedere i link per tanto temo lo conosciamo tutti qui adesso ve lo censuro ma in pratica dove c'è scritto puoi visualizzare le nostre collaborazioni precedenti su questa pagina c'è un canale youtube di un youtuber che io fino adesso fino a quando non ho letto il suo link qui e poi ho visto tutto quello che adesso vedete anche voi io stimavo ma parliamo di un youtuber e dove ovviamente non posso farvi vedere chi è e dirvelo altrimenti mi denuncerebbero subito e andrei in galera ma parliamo di un youtuber che c'ha più o meno 200 mila iscritti anche di più vabbè loro mi chiedono se sei disponibile a collaborare con noi puoi mandarmi un preventivo perché loro diciamo sempre che dovesse sponsorizzato quindi ricevere dei soldi oltre i prodotti o un video dedicato di 10 minuti oppure una menzione ovvero tu fai un video per cacchi tuoi e poi dentro cinzacchi temo come sponsor del video e quindi loro volevano entrambe le proposte grazie per la cortesa attenzione e mi salutano così questo abbiamo detto il 18 dicembre 2023 inizio dicevo no voglio rimanere pulito al 100% non collaboro e quindi loro che cosa fanno insistono e il 4 di gennaio ci riprovano come dalla nostra precedente mail ti rinnova il nostro invito a lavorare con noi e ti rispiegano le stesse cose di prima alla fine io non è che cedo però dico vabbè proviamo se sono onesti il video lo pubblico altrimenti me lo tengo per me non gli faccio assolutamente pubblicità andiamo indietro quindi accetto va avanti la trattativa però faccio un ultimo test così me li tolgo dalle scatole non so se vi è mai capitato di fare dei lavori per qualcuno che quel lavoro non lo volete fare volte ci stanno i muratori che non ti vogliono fare un lavoro perché sono pieni di lavoro per non dirti proprio di no ti dicono guarda questo costa 2000 euro quando magari a livello di mercato costa 500 euro il lavoro quindi ti sparano un prezzone quindi in sostanza tu dici no troppo non lo faccio il lavoro allora ho detto guardate non mi interessa va a essere pagato lo faccio anche leggere che scritto questo è quello che posso fare recensione le mie durano dei 10 15 minuti metterò il vostro nome temo nel titolo che è giusto tutte le cose che faccio normalmente farò qualche storia su temo però in cambio non voglio soldi i don't ask for money bat 6 6 6 700 euro di coupon quindi gli chiedo 6 700 euro di coupon quindi vabbè questi 6 700 euro a un coionazzo come me non li manderanno di prodotti e quindi mi diranno no lasciamo perdere non non va bene invece loro hanno prima hanno accettato poi hanno ritrattato poi hanno detto vabbè te ne mandiamo 200 e alla fine mi manda mi hanno mandato 100 euro di prodotti che io ho scelto e anche lì sono stati non onesti perché all'inizio hanno detto 100 euro di prodotti quello che ti pare quindi avrei potuto ordinare due cose del valore di 50 euro l'uno per esempio invece no hanno impostato quali prodotti ordinarie la tipologia quindi c'era una lista particolare infatti mi hanno inviato un link che mi ha portato su una piattaforma particolare insomma una marea di paletti quindi già mi sentivo ingabbiato e ho detto vabbè vabbè mi scrivono un po di cose che avevano visto che gli articoli che scelto sono molto belli tuttavia si prega di notare che non si deve iniziare il video fino a quando non si è ricevuta richiesta di produzione quindi anche se mi arrivava il pacco io devo stare fermo e non fare niente quindi altro paletto poi mi mandano queste mail domicili ciao caro fredditec il corriere sarà poste italiane il numero di spedizione il tracking number questo è il tuo pacco ordinato arriverà in tre sette giorni e quando bisogna parlare male si parla male quando bisogna parlare bene di una cosa si parla bene come faccio sempre qui sul mio canale sulle mie recensioni servizio di spedizione normale è passato tutto tramite il classico servizio di spedizione dei pacchi come se voi utenti noi utenti normali compriamo qualcosa su temo è passato proprio da quella piattaforma lì in questo caso mi pare setto otto giorni da quando hanno spedito dalla cina è arrivato tutto ed è tutto qui tutto almeno sembra ben imballato adesso lo devo ancora aprire quindi non lo so però il pacco non è distrutto questo è certo ultime mail è quella che in pratica mi ha fatto generare questo video in modo diverso da come loro mi hanno chiesto di fare i ragazzi divertimento pure adesso ci divertiamo ciao fredditec il tuo pacco è stato consegnato perché ovviamente loro anche loro hanno il tracking number vedono se il pacco è arrivato questo è il tuo codice esclusivo questo codice che potete anche utilizzare spero funzioni ancora non so perché da quando pubblicherò il video non so quanto tempo lo ci metteranno per annullare questo coupon comunque questo coupon vi da diritto a 100 euro spendibili nelle categorie ipotizzo che loro hanno impostato di questi prodotti quindi avrete un discount di 100 euro almeno così hanno detto poi mi hanno scritto importante i video devono essere approvati in anticipo prima di essere pubblicati quindi adesso avrei dovuto registrare questo video tutto artefatto l'avrei dovuto inviare a loro loro avrebbero dovuto dare andare l'ok se qualcosa non andava avrei dovuto modificare il video in pratica era un video pilotato e fatto da loro se lo potevano fare benissimo loro è fatta la festa e invece no perché devono sempre sfruttare la nostra i nostri influencer italiani e così non va bene questa parola brief che l'ho capita adesso non avevo mai vista nessuna email di collaborazione normale che ho fatto con tutti gli altri brand onesti solo ab san vi ripeto e vi lascio il link qui in descrizione lab sana quella che produce i droni sono lì hanno tentato di corrompermi e già lo sapete io sono trasparente il link sta qui nella scheda andatevelo a guardare come hanno tentato di corrompermi il brief in pratica è un documento che riepico riepico riepilogati vabbè forse riesco a dirlo vabbè avete capito un documento che è un sunto di tutto andando a vedere questo documento in pratica c'è scritto tutto quello che devi fare mettiti dal punto di vista dell'utente dell'app temo che ha effettuato il suo primo acquisto il tono del video quindi anche le parole di come dovevo dirle tutte curioso all'inizio del video positivo durante e dopo l'unboxing quindi se trova se io adesso apro questo qui dentro c'è una merda io non posso essere scontento insomma ma la cosa stupenda è questo lo script perché non fosse pratico lo script semplicemente è una bozza di quello che devi dire anch'io faccio il mio script quando devo registrare un video tutorial una video recensione metto i miei paletti ok unboxing parla di questi punti focali se hai fatto l'unboxing vai a registrare i vari test che hai fatto per la recensione di quel prodotto quindi parla delle cose che vanno male parla delle cose che vanno bene ma è una scaletta che ti imposti per fare un video con un senso compiuto invece è uno script fatto apposta per dire quello che devi dire scena 1 mostra come portare le scatole pacchi giganti di temo a casa tua o sul tavolo come ho fatto all'inizio del video per finta ovviamente ha appena effettuato un ordine su temu e vuoi aprire la confezione con i tuoi spettatori e mostrare esattamente come funzionano i prodotti che acquistato x rossa da non fare non menzionare che prodotti ti sono stati inviati perché si tratta di una sponsorizzazione del marchio quindi in pratica stanno dicendo non dire che i prodotti ti sono stati inviati in modo gratis ma che l'hai pagati cosa non vera anche questa seconda bugia che avrei dovuto dire punto 3 introduzione del marchio in modo naturale piuttosto che in modo molto brandizzato e sponsorizzato in pratica fare tutto come se fosse naturale in pratica mentirvi come se fosse una cosa naturale poi scena 2 mostrare come aprire i pacchi di temo e ammucchiarli sul tavolo sulla terra quello che vi parla beh vi dicono altre cose che dovete dire e fare insomma recensione più che pilotata in sostanza adesso queste immagini non posso farvele vedere perché ci sono proprio le facce dei recensori e quindi rischierei proprio il linciaggio ma vi dico che due di queste tre foto che ci sono qui due sono italiani alcuni hanno 50 60 mila iscritti e alcuni hanno 200 mila iscritti e li sono andati a vedere anche perché ci sono in questo foglio i link dei loro canali youtube quindi attenzione voi youtuber truffaldini perché qui dentro questi tizi mettono i link dei vostri canali e in pratica fanno passare voi come dei truffatori quali spero non siete però se state qui dentro ok ragazzi chiudiamo da qui perché mi sono anche stufato di stare a censurare tutte le cose che ho dovuto censurare in questo video spero di averlo fatto bene vi mostro che anche se si fanno video sensati adesso li vedrete sul canale e soprattutto non truffaldini i brand con te collaborano anzi apprezzano che il prodotto venga recensito in maniera onesta e non sono pochi pacchi sto flexando non è che vi mostro tutta questa roba per farvi vedere quanta roba mi mandano ma semplicemente per dirvi che è vero che ci si mette tre volte tanto di impegno le difficoltà si moltiplicano per tre quattro volte però brand onesti ci sono soprattutto i brand che fanno queste cose tipo temo dimostrano a noi tutti che non hanno fiducia ai loro stessi nel loro brand e nel loro in quello che fanno nel loro operato e nel valore dei loro prodotti e dei servizi quindi si tagliano le gambe da soli e io collabori con termo in futuro ovviamente escluso perché dopo che vedranno questo video sicuramente mi manderanno mail minatorie più che mai vi chiedo adesso di supportare il canale in maniera del tutto gratuita lasciando un bel like iscrivendovi al canale se ancora non siete iscritti e attivando la campanellina ma soprattutto non lo chiedo quasi mai questo video condividetelo in modo tale che più persone vengano avvisate delle maniere truffaldine che temo ha di operare in giro per i social quindi condividete il video sul vostro gruppo facebook privato sulla vostra pagina facebook sul vostro profilo instagram mettetelo dove vi pare condividete il video almeno più persone sanno questa cosa più persone sanno con chi abbiamo a che fare spero che questo video vi sia piaciuto come al solito fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa vorreste vedere sul canale in merito che ne so magari a come funziona youtube come aprire un canale youtube come portarlo avanti magari posso creare un video come vi ho detto ad hoc e niente io adesso mi rimetto a spacchettare qualcosa di interessante non vi ho fatto vedere i pacchi temo ma vi li farò vedere più in là perché sinceramente non ci tengo a fare pubblicità ulteriore come ho fatto oggi in questo video a questo store cinese detto questo noi ci vediamo nel prossimo video sempre qui su fredd video onesti ciao